Le stelle di Azus 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 per quanto riguarda il lavoro questa è una luna che può invece darvi un'occasione una chance se siete alla ricerca di un socio in affari oppure se dovete risolvere una questione legale è quello lì il triangolo quello che appare sul monitor del tuo quello blu è proprio un triangolo perfetto il triangolo regolare è un triangolo equilatero equilatero ecco bene non mi veniva la geometria vecchie riminescenze allora avete preso carta e penna perché adesso veramente diamo un po' di numeri un po' di date un po' di coordinate partiamo da Milano e salutiamo tutti gli amici che ci seguono attraverso questo canale tv dalla Lombardia da Milano in particolare ecco saremo con cartomati europei molto molto vicino a voi e per un bel po' di giorni al parco delle esposizioni di Novegro appunto a Milano ci sarà il festival dell'Oriente e ci saranno ovviamente anche gli stand di cartomanti europei 27, 28 e 29 maggio e poi 1, 2, 3, 4 e 5 giugno possibilità di conoscere appunto da vicino i cartomanti di cartomanti europei la possibilità di ottenere un consulto in diretta a tu per tu seduti ad un banco ecco e ad una postazione insomma adesso non so come sarà organizzata lì la cosa e poi comunque la possibilità di vedere tutti quegli oggetti interessanti che ruotano un po' attorno al mondo di cartomanti europei al mondo della divinazione in genere però sicuramente una cosa una peculiarità una cosa molto carina il museo dei Tarocchi quello credo sarà visibile soltanto all'interno dei nostri spazi questo per Milano invece per Roma Fiera Esoterica 2016 in un giorno solo in realtà il 29 maggio a partire da mezzogiorno in via Casilina all'interno della discoteca Blackout via Casilina vi dico anche il numero civico 713 anche lì possibilità di conoscere i cartomanti la possibilità di conoscere anche Azus perché ci sarà una conferenza che anche io avrò il piacere di così di condurre e quindi un incontro con il pubblico che potrà fare domande analizzare aspetti vedere un po' come affrontare la divinazione dal punto di vista della cartomanzia della numerologia e dal punto di vista dell'astrologia appunto e in più la lettura della mano digitalizzata ci sarà la bocca della verità di cartomanti europei si infila la mano e ci sarà uno scanner un computer che leggerà digitalmente le linee della vostra mano e vi rilascia anche una preziosa pergamena questo per dire che nei prossimi giorni tante persone tanti operatori del centro cartomanti europei sarà alla portata sarà ancora più fruibile ma come dire in carne ed ossa nelle due più grandi città del nostro stivale andiamo avanti Azus con il segno zodiacale del leone si il segno zodiacale del leone che in questa giornata ha delle buone chance delle buone occasioni che riguardano proprio la sfera economica finanziaria se avete delle idee dei progetti da mettere in pratica beh fatelo in questa giornata perché ci sono dei transit davvero molto belli che rendono creativi particolarmente perspicaci e se c'è bisogno di investire delle somme di denaro per mettere in pratica proprio un'idea per barare un progetto fatelo perché i soldi saranno ben investiti e alla fine frutteranno quello che voi avete preventivato è una giornata in cui certamente potete avere successo successo anche nelle piccole cose nelle cose più banali certamente questi transiti planetari vi rendono delle persone molto solide quando si tratta di lavoro in amore chiaramente questa luna nel segno del capricorno non vi permette di tirare fuori tutta la vostra emotività la vostra sensibilità anzi presi come sarete da questioni molto pratiche tenderete un pochettino a trascurare la vita sentimentale mentre nei rapporti sociali e di amicizia sarete particolarmente attivi andiamo al segno della vergine bellissima luna che transita nel punto più bello del vostro cielo è una giornata questa che vi vedrà di ottimo umore soprattutto molto attivi con questo giove fortunato ecco la fortuna sarà dalla vostra parte con un mercurio che vi rende molto perspicaci intuitivi e avrete la possibilità di mettere a segno degli ottimi colpi sia sul lavoro ma anche da un punto di vista familiare sentimentale insomma questa è la classica giornata che vi vede un po' al top delle vostre possibilità al top della fortuna certo dovete sempre stare attenti a questa venere e questo sole che transitano nel segno dei gemelli parlano però quei transiti soprattutto della vostra condizione fisica ecco non trascuratevi voi siete un segno anzi il segno per eccellenza attento al proprio corpo alla cura del corpo alla salute ma con questi transi che vengono un po' la tendenza a lasciarvi andare ecco mettere da parte certi principi che insomma voi un po' incarnate andiamo al segno della bilancia per voi certo questa luna in transio nel capricorno non è il massimo è una luna che parla di famiglia di casa di lavori da fare in casa però i soldi spesi per i lavori casalinghi e domestici saranno soldi ben spesi quindi la giornata ideale per chiamare un idraulico un elettricista per fare dei cambiamenti anche di arredamento forse dovete acquistare non so una nuova cucina un nuovo elettrodomestico questa è la giornata ideale amici bilancini è chiaro che il vostro umore non sarà dei migliori in questo giorno del resto questa luna è una luna che va a disturbare proprio il vostro subconscio la vostra sensibilità e quindi sarete di cattivo umore e non saprete nemmeno voi il perché venere e sole comunque nel segno dei gemelli vi aiutano in qualche modo ad affrontare i problemi della giornata e a superarli grazie anche ad un pizzico di fortuna andiamo al segno dello scorpione ottima giornata in cui la comunicazione sarà fondamentale questo è un giorno ideale per affrontare un colloquio per proporsi per spedire un curriculum per mettersi insomma al centro dell'attenzione per dimostrare anche le proprie capacità ecco per sostenere un esame diciamo così questa è la giornata che vi vedrà vincenti sotto questo punto di vista proprio perché riuscirete a tirare fuori il meglio di voi stessi ad attingere dal bagaglio di esperienze e di conoscenze per metterlo a disposizione anche degli altri perché no dei vostri colleghi di lavoro dei vostri familiari dei vostri figli certo non dovete peccare di presunzione perché il pericolo è quello amici dello scorpione credersi un po' onnipotenti e imbattibili ecco ma con un pizzico di umiltà davvero in questa giornata potrete mettere tutti nel sacco bene allora ricordate i contatti telefonici diretti di cartomatti europei lo 0773 49 3505 uno su tutti e poi il sito internet www.cartomantieuropei.com grande organizzazione cartomatti europei centro di cartomazzia telefonica ma ovviamente non solo perché siamo qui ad esempio a parlarvi di oroscopo ma anche numerologia shop forum sul sito per parlare tra di voi per raccontarvi quali sono le vostre impressioni insomma cartomanti europei un'organizzazione a tutto tondo per quel che riguarda l'arte della divinazione vi invitiamo ad accostarvi con fiducia rispetto a quello che può essere l'ausilio che un cartomante un astrologo un numerologo può darvi nel corso della giornata anche nel corso di un periodo per la risoluzione di un piccolo grande problema persone che lavorano nel pieno rispetto innanzitutto della propria passione e che non si svindono e sono persone che soprattutto hanno il pieno rispetto dell'etica professionale che vi affiancano che non vi promettono di risolvervi il problema quella sarebbe un'altra cosa e della quale proprio non vogliamo neanche accennare sono persone che attraverso i propri strumenti di divinazione le carte le stelle i numeri eccetera possono in qualche modo aiutarvi affiancarvi a cercare di illuminare il problema illuminare un video al quale vi state accingendo e poi il libero arbitrio rimane sempre nelle vostre nelle vostre mani la scelta finale la decisione finale è vostra a seconda però delle cognizioni che attraverso una chiacchierata con un cartomante o che avete un consulto cartomantico astrologico numerologico si dirà numerologico verso di sì ecco quelle cognizioni che avrete appunto nel frattempo guadagnate www.cartomantieuropei.com 0773 49 3505 ci sono per chi chiama e per chi c'è il posto la prima volta delle chance per poter diciamo così fare il tutto anche in maniera gratuita chiedete ai ragazzi del centralino noi nel frattempo andiamo avanti con l'oroscopo ripartendo dal sagittario sì segno del sagittario che vivrà una giornata insomma magari non entusiasmante no? perché non è entusiasmante? perché dovrete occuparvi di questioni anche banali e sappiamo che la banalità non è proprio la cosa che voi preferite in assoluto no? voi che siete il segno della scoperta dell'avventura della ricerca anche devo dire invece in questa giornata dovrete organizzare al meglio la vostra vita quotidiana il lavoro quotidiano magari è la giornata ideale per mettere ordine sulla vostra scrivania voi ogni tanto no? dimenticate oggetti sparsi qua e là invece questa è una giornata che vi permette di rimettere ordine nella vostra vita è una giornata ideale ad esempio per affrontare un problema legale burocratico se dovete andare allo sportello comunale per risolvere una pratica per rinnovare la vostra carta d'identità questa è la giornata ideale per farlo e è chiaro che magari i sentimenti l'amore non vi daranno grandi gioie in questa giornata però ha tutto vantaggio della vita pratica perché anche di quello viviamo amici sagittari andiamo al Capricorno ecco una giornata in cui siete veramente un segno da battere un segno vincente con la fortuna che è tutta dalla vostra parte soprattutto quando parliamo di denaro di lavoro di incassi di nuove possibilità da un punto di vista professionale ma è una giornata anche che voi potete dedicare allo svago al relax al divertimento perché questo mercurio nel segno del toro parla anche di quello della felicità che ognuno di noi può provare dedicandosi alle proprie attività preferite ai propri hobby ma anche ai propri figli questo mercurio parla di rapporti con le persone più giovani della famiglia e questo giove magnifico nel segno della Vergine parla anche di viaggi e di possibilità di ottenere dei grandi risultati sul lavoro proprio attraverso un viaggio o un contatto con una persona lontana ma si può viaggiare anche semplicemente per piacere andiamo al segno dell'acquario giornata piuttosto complicata per quanto mi riguarda perché c'è una luna che transita in un settore che ha a che fare con i sogni che ha a che fare con l'immaginazione l'illusione allora se vi è richiesto di lavorare con la fantasia se fate dei lavori molto creativi magari non so siete degli scrittori ecco non so anche degli autori di fiabe ecco questa potrebbe essere una giornata ideale ma se invece nel vostro lavoro è richiesta razionalità attenzione come nella stragrande maggioranza dei casi chiaramente questa è una giornata pericolosa perché voi potreste lasciarvi andare proprio anche ad un'illusione coltivare un sogno un sogno che magari potrà essere realizzato nelle prossime settimane nei prossimi mesi ma deve essere basato anche su la fredda razionalità ecco quindi non cavalcate insomma imprese impossibili questo è il messaggio che vi arriva dalle stelle ma insomma potete coltivare un sogno anche d'amore devo dire che ha a che fare con la vostra vita sentimentale ma che deve essere in qualche modo razionale deve essere realizzabile chiudiamo con il segno dei pesci per voi invece un'ottima giornata le amicizie saranno un punto di riferimento importante la comunicazione con gli altri vi darà delle ottime soddisfazioni sarete anche al centro dell'attenzione c'è solamente questo giove perché questo grande trigono di cui parlavamo prima si forma in quei settori del cielo che hanno a che fare proprio con gli altri il rapporto con gli altri quindi la terza casa l'undicesima casa la settima casa questo significa che ci possono essere delle grandi gioie nel rapporto di coppia per esempio ma anche nei rapporti anche quelli un po' più superficiali con dei semplici conoscenti con i parenti stretti ma attenzione anche a chi vuole approfittarsi della vostra generosità ricordami che quando rinasco voglio diventare scrittore di fiabe beh perfetto in quanto acquario ecco allora ricordate dai in conclusione di questo appuntamento con le stelle di Azus ricordate queste date 27, 28, 29 maggio 1, 2, 3, 4, 5 giugno Festival dell'Oriente a Milano al Parco delle Esposizioni di Novegro presenti i cartomanti europei e poi stessa cosa ma per un giorno solo a Roma il 29 maggio per la fiera esoterica 2016 via Casilina all'interno della discoteca Blackout in tutti e due i casi stand possibilità di consulti direttamente a tu per tu con i cartomanti i cartomanti europei quelli che insomma vedete sempre qui in tv oppure che sentite al telefono e tante curiosità il museo dei tarocchi la lettura della mano digitalizzata quello però a Roma soltanto se non vado errato insomma venite a conoscere un po' più da vicino questa grande organizzazione che con questa voce vi saluta e vi augura la buona giornata